Il Trestina è tornato alla vittoria e lo ha fatto davanti ai propri tifosi allo Stadio Casini nel match contro il Sandonato Tavarnelle. Due autentiche perle di Belli e Bucci hanno deciso la partita. Un successo è le primo del 2024 che ha consentito ai bianconeri di Ciampelli di salire all'ottavo posto della classifica a quota 33 punti. Sono rimasti invece fermi a 30 i giallo-blu di Collacchioni incappati nelle quarto KO esterno consecutivo. La gara fatica a decollare e i primi minuti sono molto tattici ma poveri di emozioni. Al ventisettesimo però Fiorenza combina la frittata non trattenendo la punizione apparentemente innocua di Bellini ma Chiti decide di graziare il Trestina e da pochi centimetri calcia sulla traversa. Al trentatresimo si fanno vedere in avanti i bianconeri con Conti che appostato sul secondo palo non riesce a trovare la deviazione vincente sulla punizione calciata da Belli e deviata da un difensore del Sandonato. Due minuti più tardi ci prova lo stesso Conti dalla lunga distanza ma non trova il bersaglio. Dall'altra parte l'arbitro del match Luca Schifone di Taranto non giudica fallose il contatto tra Bellini e Omorria. Allora Boci si impossessa della sfera ma poi calcia male e spreca una ghiotta chance. Al quarantesimo Fiorenza è bravo ad opporsi alla conclusione di Barazzetta. Cinque minuti più tardi si sblocca il match grazie ad un autentico capolavoro firmato da Belli che prima con una finta manda fuori giri tre giocatori avversari e poi Conile destro. Disegna questa conclusione a giro che si insacca sul palo lontano. Ile Casini esplodi di gioia, Ciampelli esulta con grinta e Ile Trestina chiude il primo tempo in vantaggio. I bianconeri rientrano in campo con il piglio giusto e dopo soli 120 secondi dall'inizio della ripresa colpiscono ancora. Tascini sventaglia per Belli che poi favorisce l'inserimento di Bucci. Il numero tre fresco di gol all'Inter e di convocazione per il torneo di Viareggio fa partire questo bolide mancino che si infila sotto la traversa e non lascia scampo a Manzari. Il San Donato accusa il colpo e due minuti più tardi il numero uno ospite deve distendersi in tuffo per respingere il destro di Belli. Con la Chioni corre ai ripari e manda in campo Oitana e Petronelli al posto di Bocci e Neri ed è proprio il numero 20, un minuto dopo essere entrato nel rettangolo verde, ad avere la chance per riaprire la partita ma Fiorenza si fa perdonare l'errore del primo tempo e salva i suoi con un doppio intervento di piede. A questo punto la partita scorre via senza sussulti con una Trestina molto attento che contiene bene i tentativi del San Donato Tavarnelle. Gli ospiti si riaffacciano dalle parti di Fiorenza soltanto al 91esimo quando Chiti non riesce a deviare in rete la punizione di Bellini. Tre minuti più tardi dopo la punizione alta dello stesso numero 10 arriva il triplice fischio dell'arbitro. Allo stadio Casini finisce così, Trestina 2, San Donato Tavarnelle 0. Davide Ciampelli la possiamo definire una vittoria di qualità perché Belli e Buccia hanno fatto veramente due grandissimi gol. Di qualità nei gol, però di cattiveria e di voglia di fare punti per tutto l'arco della gara. Abbiamo giocato partite da un punto di vista tecnico migliori rispetto a questa anche nell'ultimo periodo, però avevamo un po' smarrito la caparbietà e la voglia feroce di fare punti. In Serie D per fare punti deve essere così. Al cospetto di una squadra che nell'arco della prima frazione di gioco ci ha messo in difficoltà, poi le partite sono fatte di momenti, di episodi e il gol di Lorenzo chiaramente ha dato un indirizzo importante alla ripresa. Siamo stati bravissimi a rientrare in campo, questa volta sì cattivi, attenti rispetto alle ultime volte che si aveva visto un pochino meno sotto questo aspetto a chiuderla e poi quando c'è da soffrire bisogna soffrire con tutto quello che abbiamo in questo momento sapendo che dobbiamo attingere a tutto quello che abbiamo nella nostra rosa compresi i ragazzi 2006 che hanno chiuso la gara. Davide, possiamo dire che oltre ai gol, lo hai in parte già detto ma l'aspetto più positivo è stato l'ultima mezz'ora di gioco perché il Trestina praticamente non ha rischiato nulla. Per me è la terza stagione che ha questo andamento per me, per Riccardo, anche a Portolasco abbiamo vissuto due gironi d'andata molto importanti, poi si sa che in Serie D il pesce grande piano piano va sempre a mangiare il pesce piccolo e piano piano si tende un po' a perdere quella voglia di fare punti tutte le domeniche a maggior ragione quando c'è una squadra giovane come questa però questa è una squadra che ha un margine di crescita individuale e collettivo molto importante e sarebbe un peccato non dar seguito a quanto fatto nel girone d'andata e cercare di completare questa stagione ottenendo il nostro obiettivo oggi per quanto riguarda quell'obiettivo la quota si è alzata perché i risultati dietro dicono questo e una volta raggiunto chiaramente cercare di migliorarci sempre di più in quest'ultimo periodo questo aspetto è un po' mancato e oggi in campo si è rivisto come dici tu soprattutto in ultima mezz'ora Lorenzo Collacchioni possiamo dire che quel gol di Belli ha un po' cambiato la partita dopo che il San Donato ha avuto due grandi chance per passare in vantaggio sì forse anche più di due secondo me perché non esiste portare il primo tempo sullo 0-0 meritavamo e dovevamo sicuramente sbloccare la partita nell'occasione che abbiamo creato poi c'è stato l'episodio che non deve accadere all'ultimo secondo il primo tempo ma siccome accade poi bisognava rientrare subito con il Piglio per recuperare la partita un altro episodio perché poi non mi ricordo l'altra occasione del Trestina ci ha condannato subito allora abbiamo provato anche in maniera un pochino più diretta a recuperare la partita l'abbiamo creato però poi alla fine oggi abbiamo visto il bello e il brutto del calcio dove non meritavamo e siamo andati sotto 2-0 e poi onore insomma a chi vince perché ha sempre ragione poi guardando il tabellino il risultato finale c'è Rammario, Rammario anche per qualche episodio perché secondo me c'era un rigore nostro sul 2-0 e comunque secondo me con un episodio la potevamo riaprire e recuperare ci abbiamo provato così non è andata perciò bisogna andare avanti